Buongiorno, da oggi per qualche settimana abbiamo deciso di fare un viaggio in alcune città europee per vedere, capire come stanno affrontando il problema della mobilità e a che punto sono le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Siamo partiti da Londra con una mini elettrica dove il sindaco Boris Johnson ha già annunciato tra l'altro che proprio per le imminenti Olimpiadi tutti gli spostamenti verranno fatti ed effettuati con veicoli elettrici. Vediamo. Ed ora andiamo ad Amsterdam che è la città che fin dall'inizio forse ha creduto di più nell'auto elettrica tanto che sono numerosissimi i taxi alimentati alla presa di corrente. Muoversi così è anche per la popolazione del luogo un vero e proprio stile di vita. Per noi c'era Alfredo Cardone. Dalle silenziosissime auto elettriche ad una sportiva più grintosa il cui marchio ha fatto delle vittorie nei rally l'emblema della sua immagine. Si tratta dell'ultima novità Subaru. Ce ne parla Matteo Morichini. E parliamo di due ruote ora. Continua l'allargamento di gamma della casa inglese Triumph ma questa volta all'insegna dell'enduro. Il motore è sempre ovviamente un tre cilindri, mille e due di cilindrata, telaio e design. Le forme sono completamente nuove. Come va? Lo sentiamo da Roberto Ungaro. E abbiamo concluso anche oggi. Grazie per averci seguito. Vi aspettiamo se volete domenica prossima alle 13.30 dopo il TG2. E per chi ci volesse iscrivere il nostro indirizzo di posta elettronica è sempre tg2motorichioccia.rai.it Arrivederci.